Ciao a tutti, benvenuti su un altro video, sono Teddy Nati, oggi parliamo di Pittsburgh Pro Get Sposing, cosa è successo ieri? Prima di iniziare questo video siete su nuovo qua, iscrivetevi sul canale, per quelli che sono già iscritti non dimenticate di mettere mi piace su questo video, mi aiuta tantissimo e per quelli che sono di nuovo iscritti grazie mille che avete scelto questo canale prima di iniziare a tutti i guest posing, cosa è successo ieri? È che veramente ho visto il mondo di bodybuilding per la prima volta uniti per un guest posing di Pittsburgh Pro è veramente, era veramente, veramente bello, non ho visto in diretta però ho visto alcuni video la prima cosa che volevo parlare è di due di Classic Physique, Vamondino e Erick Sklonseski veramente questi ragazzi ci sono sempre, ovunque a me piace Classic Physique per questo perché vanno ovunque e non si tirano indietro per far vedere loro fisico eccetera però in questo, diciamo in questa competizione ho visto Erick Sklonseski molto migliorato magari perché era pieno off-season, anche era un pochettino più attivato di Vamondino però loro due sono lì, lì, non si sa però se Erick Sklonseski continuano così secondo me il prossimo anno dà un problema sia Vamondino anche Chris Bomster poi andiamo su ai grandi, Nick Walker, Nick Walker era molto 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 tirato ovviamente più tirato sul pacco perché lui fra una settimana gareggia a New York Pro e lui era molto bello secondo me uno dei più belli fisici che c'erano sul pacco però c'era anche Fritz Water che fava anche New York Pro lui personalmente mi ha stupito molto Avantini Cuoco non è che si ascondeva tantissimo perché ho visto alcune foto che hanno messo insieme e lui veramente questo Martin Fitzwater è molto molto sottovalutato come in foto che sto mostrando qua voi potete vedere veramente non è uno di chiudere i suoi occhi però credo che Nick Walker è ancora superiore poi abbiamo Davis Lansford, Davis Lansford sembra si è off season però sembra molto molto migliorato su gambe credo che ancora Davis Lansford riesce a vincere come si chiama Mr. Olympia anche qua non c'era Big Ramy ovviamente e poi non c'era anche Harry Chupan però non è che Harry Chupan ha detto che lui lo faceva però lui non c'era per dire anche noi sappiamo quanto è importante questo guest posing per il mondo di bodybuilding quindi credo che Davis Lansford riesce ad aggiustare ancora un pochettino sulle gambe tranquillamente poi vincere Mr. Olympia poi abbiamo visto Hunter Labrada Hunter Labrada ragazzi veramente si è aumentato la sua massa io lo vedevo molto 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 grosso perché anche a fianco degli altri lui non sembrava piccolo lui sembrava l'altezza di gente come Samson Dauda quindi credo che queste tre notizie che ho detto erano più importanti che c'era questo guest posing perché tanto abbiamo visto Samson, Andrew Jack, eccetera però erano tutti off season quindi non c'è molto da dire però l'unica cosa Hunter Labrada veramente mi ha stupito per la sua massa che si è riuscito a mettere però non lo so quando garrergerà di nuovo e voglio vedere lui in parco un po' tirato per vedere quanto massa lui può perdere sono terminati ci vediamo sul prossimo video ragazzi questo è solo il recap di cosa è successo a Pitbox Pro ci vediamo sul prossimo video ricordatevi sti modi per gli esternati ci vediamo ciao